Cargiver Domande e risposte Come e quanti permessi lavorativi si possono chiedere? Si deve innanzitutto fare domanda all'INPS per il riconoscimento dell'handicap grave. Successivamente si dovrà fare richiesta all'INPS e al datore di lavoro per ottenere i permessi e gli altri benefici della legge 104, per se stessi o per l'assistenza del proprio familiare disabile grave. Il lavoratore che assiste a un familiare disabile grave, parente o affine entro il secondo grado o entro il terzo grado, in specifiche situazioni, ha diritto a tre giorni di permesso mensile per legge 104, utilizzabili anche in maniera continuativa. In particolare sono riconosciuti diverse tipologie di permessi, permessi retribuiti, permessi non retribuiti e il congedo straordinario. Grazie